Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora non sempre riesco a registrare il video per fare gli auguri di Natale quest'anno ho deciso di ritagliarmi giusto qualche secondo per potermi dedicare a voi e a farvi gli auguri so che il mio canale è minuscolo, so che ci sono delle persone affezionate dall'inizio e so che piano piano qualcuna ogni mese o qualcuno ogni mese si sta aggiungendo a questa piccola comunità quindi è a voi che mando i miei più sinceri auguri di buon anno che possiate passarlo in compagnia della vostra famiglia qualunque essa sia sia una famiglia di fatto, non di fatto, umana, non umana, qualsiasi quindi nulla, un piccolo pensiero a voi che veramente possiate passare un Natale in serenità io vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazze e ciao ragazzi, buon Natale!